Un solo campanile, l'Abruzzo. Sotto questo slogan si sono riuniti davanti ai cancelli della Seva Eldiatessa una cinquantina di lavoratori per partecipare all'assemblea organizzata dalla UIL Abruzzo. Un momento di confronto a cui ha partecipato anche il segretario nazionale dell'Unione Italiana Lavoratori Pierpaolo Bombardieri in prima linea nelle scorse settimane nella difficile trattativa Palazzo Chigi sul recente accordo sui licenziamenti. La notizia è una grande professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno dentro questo stabilimento. Il successo delle grandi aziende parte sempre dal lavoro, dalle lavoratrici, dall'impegno quotidiano di una terra che ha non grandissime occasioni di sviluppo come questa, che bisogna tutelare. Uno stabilimento che ha grandi numeri di produzione e che noi dobbiamo insieme al governo, insieme alla politica tutelare rispetto ad eventuali tentativi che ovviamente il mondo economico e il mondo imprenditoriale può fare di spostamenti in altri territori. Però è chiaro che bisogna che ci siano le stesse regole dappertutto, altrimenti diventa complicato. Noi dobbiamo ricostruire questo Paese garantendo dignità al lavoro e ovviamente le cose che noi abbiamo visto e abbiamo pagato durante questa crisi hanno bisogno delle risposte diverse da quelle che abbiamo ottenuto finora. Il rispetto della vita, la sicurezza sul lavoro sono temi che durante la pandemia sono stati trattati ma non sempre con la dovuta attenzione. E poi l'impegno del sindacato è quello di provare a ridisegnare un Paese diverso, nel quale le diseguaglianze sociali, nel quale i lavori, i lavoratori, le lavoratrici abbiano più dignità, nel quale i giovani abbiano una speranza. Ci sono grandi temi di diseguaglianza che purtroppo non sono stati affrontati e le affrontiamo con il lavoro, le affrontiamo con la vita sociale di tutti, le affrontiamo sui territori. Questo territorio ha bisogno di più investimenti, ha bisogno di più attenzione. Non possiamo avere un Paese che gira a 3-4 velocità, è corretto che su ogni pezzo di questa nostra splendida nazione ci sia pali dignità e pali risposta per tutti. Sui licenziamenti io dico che noi abbiamo fatto un accordo importante che richiama tutti alla necessità di non lasciare indietro nessuno. Poi come in ogni caso ci sono i falchi, ci sono quelli che pensano di essere duri, abbiamo anche qualche professore che ci spiega ogni giorno che cosa si poteva fare. Ai falchi diamo un messaggio, attenzione, non siamo disponibili ad accettare senza restituire il colpo, perché quando si mandano 155 lettere di licenziamento si mettono per strada 155 famiglie. Allora qualcuno ci deve spiegare perché si mettono 155 famiglie per strada mentre ci sono i soldi ancora per qualche mese.